Il mondo si allarga sempre di più e aumentano gli scambi e i contatti tra le varie confessioni religiose e il fatto di accorgersi che c'è un metodo per conoscere la storia della Bibbia e di leggere la Bibbia che prescinde dalle differenze delle confessioni religiose, che appunto è il metodo diciamo più scientifico e filologico di leggere la Bibbia, perché se tu ti concentri non più soltanto sull'interpretazione teologica di un testo ma su cosa il testo originariamente vuole effettivamente dire, tu su questo puoi lavorare anche con un non credente o qualcuno che ha una fede diversa dalla tua, perché la fede non è più l'unico criterio di interpretazione. E allora questo cosa fa? Aumenta il dialogo tra gli studiosi, quindi il cosiddetto movimento ecumenico che nasce un po' dalla sensazione che comincia il mondo a unificarsi, a comunicare sempre più rapidamente, però i cristiani sono divisi, cioè emerge ancora di più nel mondo moderno il problema della divisione tra i cristiani, diventa ancora più evidente. Cioè quindi questo scandalo della visione dei cristiani di fronte a un mondo invece che sempre più comincia a allontanarsi lentamente dalla religione diventa sempre più forte. Allora c'è il desiderio di trovare delle cose comuni, delle cose che avvicinano le varie confessioni religiose, non più le cose che dividono. C'è questo movimento. Il movimento ecumenico è esattamente la ricerca di possibilità nuove, di forme di condivisione nella fede. La ricerca prima dei tratti comuni che quelli delle differenze che hanno portato alla rottura. E il tentativo anche di di capire veramente cosa ha portato alla rottura, perché magari se tu capisci bene la malattia, magari puoi anche guarire. Se tu capisci bene la ferita, magari la puoi rimarginare. Quindi il dialogo interteologico e il movimento liturgico. E tirando fuori tutto questo materiale antico, ci si è accorti che prima della messa, come si diceva appunto dal concilio di Trento in poi, la messa, quella che noi chiamiamo messa, l'elugia eucaristica, è stata detta in infiniti modi diversi. Quindi ci si accorge che la fede si può vivere non soltanto come la vivi tu. E questo un po', se volete, se vi è rimasto qualcosa, spero, della lezione della volta scorsa, è questa sensazione. Ma è un po' proprio come la Pentecoste, l'esperienza della fede vissuta nella Chiesa, che può parlare tante lingue, che può adattarsi a varie visioni del mondo, a culture diverse, lingue diverse, ogni lingua, ogni cultura ha una visione del mondo diversa, che può convivere con la fede, è compatibile con la fede. Anche persino le differenze dottrinali sono compatibili con una fede e una dedizione totale a Gesù Cristo. Poi non tutte le differenze dottrinali sono necessariamente eretiche, perché ci sono elementi della fede che sono ancora aperti alla discussione, all'interpretazione. Non c'è bisogno di un'interpretazione univoca, non c'è bisogno di parlare tutti con la stessa bocca, come dicevano gli antichi re di Babilonia. Quindi studiare i padri, studiare i documenti antichi, averli così facilmente a disposizione, ci si rende conto che c'è una ricchezza di fede vissuta e comunicata e testimoniata e raggiungibile attraverso questo materiale di scritti, questo tesoro di tradizione, di cui prima non si aveva consapevolezza. Ma a un certo punto nascono quelli che vengono chiamati teologi modernisti. Teologi modernisti rinunciano alla fede per seguire la ragione. Praticamente è questo quello che fanno. Ovviamente se questo è il modernismo, la Chiesa non lo può accettare, infatti il magistero di diversi papi ha condannato il modernismo. Però in realtà non è che tutti poi quei predi o studiosi teologi che sono stati accusati di modernismo erano veramente modernisti. Ci sono dei casi esemplari. Molti di questi hanno risposto dicendo ma guarda, era soprattutto San Pio X che si era presa, guarda che per la verità non è detto che si debba proprio vedere questo movimento culturale in questo modo. Infatti esiste anche un altro movimento alternativo che cerca di sposare il dialogo col mondo contemporaneo, con le scoperte scientifiche, con il nuovo modo di pensare e di vedere il mondo, con la fede. E questa è la cosiddetta nuova teologia, nouvelle teologie. Molti di questi nomi della nouvelle teologie sono quegli studiosi che hanno dato forma direttamente o indirettamente ai documenti del Concilio Vaticano II. Capite allora in che cosa consiste la svolta del Concilio Vaticano II, né rileggere la tradizione della Chiesa alla luce di tutta la ricchezza della teologia dei padri, di tutta la ricchezza che viene da un modo nuovo di leggere la Bibbia, nuovo. Non è tanto nuovo in realtà, perché era il famoso senso letterale di Tommaso d'Aquino, soltanto che il senso letterale si scopre che ha bisogno del contesto storico. E se noi abbiamo più informazioni su un contesto storico antico, capiamo meglio quello che c'è scritto. Tutte queste conoscenze nuove non potevano non cambiare il modo di fare teologia. È proprio una nuova mentalità di ragionare sulla fede. Tutto questo non poteva anche non incentivare un modo nuovo anche di vivere la fede, soprattutto di vivere la celebrazione della fede. Però se voi ricercate Concilio Vaticano II, vi interessate di Concilio Vaticano II e cercate dei video su internet, Google, il motore di ricerca di YouTube, vi proporrà sicuramente pagine o video di cattolici tradizionalisti che attaccano il Concilio Vaticano II perché vi dicono che è stato condizionato da pensatori modernisti condannati dalla Chiesa. I tradizionalisti, purtroppo non sono soltanto più dei ferroiani, c'è anche proprio un movimento che sono quelli che di solito attaccano il Papa, attaccano la Chiesa così com'è perché vogliono tornare alla Messa in latino, hanno questa nostalgia, che io rispetto pure, però non si può restare lì. Adesso vedremo quali sono le implicazioni profonde del cambiamento, che non è stato soltanto un cambiamento di lingua, è stato proprio un cambiamento d'atteggiamento nel modo in cui la Messa va vissuta e celebrata, che non è un abbandonare la tradizione. La Nouvelle Teologie voleva recuperare una tradizione ancora più profonda, precedente, che era quella che si era scoperta, leggendo i padri, rileggendoli, tornando alle origini. Capito? Questo tentativo di capire, ma i cristiani, i cristiani del primo millennio, dei primi secoli, anche prima del concilio di Nicea, come celebravano l'Eucharistia? Oggi noi sappiamo molto più cose. E loro come vivevano appunto questo rapporto tra l'Eucharistia e la vita? Ne abbiamo testimonianze, possiamo leggerli, possiamo studiarli molto più facilmente di quanto si facesse 200 o 200 anni fa. Tutto questo ha portato a un nuovo modo di fare appunto la Nouvelle Teologie, che ormai non è più tanto Nouvelle, perché è roba dei primi del novecento, sta roba qui, che poi si è appreso forza perché ci si è resi conto che i problemi sollevati dal pensiero scientifico e dal pensiero moderno non potevano essere risolti col modernismo, cioè sposando completamente il mondo moderno e abbandonando la fede. Quello che ha fatto Nice, va a studiare al seminario, mi dici che appunto il racconto di Genesi è tutta una metafora, ma in realtà non è una metafora, è un mito. Allora io recupero la rivelazione nel genere letterario mito, altrimenti devo dire che sono tutte favolette, che se volete è un modo molto ingenuo e semplificato di interpretare anche il ruolo della critica, perché tu per criticare e usare la ragione devi andare ancora più in fondo e dire no, aspetta, non sono favolette, sono miti e i miti sono modi di raccontare delle verità con un linguaggio, che è una cosa diversa. Quindi il senso letterale non è più soltanto l'esatta corrispondenza tra le cose narrate e la verità degli eventi, ma come vi dicevo l'altra volta, è una chiave di interpretazione degli eventi, eventi in cui però noi non abbiamo più accesso. Quello a cui abbiamo accesso però è la fede di chi ha scritto, è il modo in cui interpretava la vita, è quello che conta per noi e quella è la verità che cerchiamo, va bene? Quella è la verità che cerca la fede. Però la fede è un modo di unire i punti, di interpretare i dati della ragione che non è incompatibile con la ragione, questo è il punto, perché se io mi metto contro i risultati dei progressi scientifici, devo stare attento, perché posso essere facilmente contraddetto e facilmente demolito. Quindi attenzione! Grazie a tutti!